Ci ritroviamo in compagnia di Mameli, ciao Mario, ben trovato. Ciao, grazie mille. Inaugurerei questa nostra chiacchierata partendo da Senza di te, che è il titolo del tuo nuovo singolo, fresco di uscita, realizzato con i Sierra. Comincio col chiederti come sono nati il pezzo per questo incontro, questa collaborazione. Sì, allora il pezzo in realtà è nato proprio di getto, è stata una roba venuta fuori a caso, veramente a caso, nel senso che non c'era proprio l'idea di fare un pezzo insieme. Loro sono venuti da me in studio a Milano a gennaio, perché praticamente dovevano registrare un provino per Rai, praticamente il mio manager aveva un manager in comune e quindi loro sono venuti in studio da me perché appunto io li dovevo registrare, però io veramente il pomeriggio prima non è proprio per raccontare una storia bella, ma davvero il pomeriggio prima col mio chitarrista stavamo facendo un po' di... c'è proprio una sessione dove facevamo un po' di beat e avevamo fatto sto beat che poi è diventato la base della canzone. E quindi niente, mentre che poi loro sono venuti io gliel'ho fatto sentire perché ci stavamo un po' scambiando pareri sulle canzoni ancora non uscite, io avevo questa roba fatta il giorno prima, allora è piaciuta. E basta, e poi praticamente in un'ora e mezza hanno messo le strofe. In un pomeriggio abbiamo scritto il pezzo, cioè il pezzo praticamente dal momento in cui abbiamo iniziato io ed è poi finito è stato un giorno. Però è venuto in maniera figa secondo me, cioè proprio sincero, questa cosa mi è piaciuta molto perché di solito comunque i pezzi vivono in stato di elaborazione per molto tempo, invece è stata proprio una roba super veloce e rapida e poi è stato molto divertente. E' un bel brano estivo che esula dal concetto del tormentone così come lo conosciamo, perché sembra che se esci d'estate devi per forza fare un tormentone e votarti in qualche modo al reggaeton o al genere che va in quel momento. In questo pezzo si fondono interessanti sonorità. Ti chiedo come siete arrivati a questo risultato sonoro, a questo sound? Ma allora di per sé comunque io e i Sierra facciamo, abbiamo un genere musicale abbastanza diverso, no? Cioè partendo dal presupposto che io sono più acustico e suonato, loro un po' più elettronici, poi comunque anche nella scrittura loro sono molto più urban di me, io sono un bel po' più cantautorale, no? Questa cosa qui è stata proprio naturale, cioè nel senso io ho scritto il ritornello non con loro, l'avevo scritto appunto il giorno prima mentre che stavo facendo il beat, e poi loro si sono messi a fare quello che gli veniva più semplice ed è venuto, cioè si è proprio matchato bene. Infatti cioè anche noi in realtà quando l'abbiamo registrato abbiamo detto cavolo, però ci stiamo bene insieme. Poi non era una cosa, cioè non è scritto che io e Sierra facciamo, cioè stiamo bene insieme quando facciamo un pezzo, perché comunque siamo veramente da parti musicali completamente diversi. Invece poi c'è stata una sorpresa anche per noi in realtà. Ci deve essere quell'incastro di stelle, di pianeti, di universi per città. È andata bene, forse è un po' a botta di culo, lo possiamo dire, però… Io volevo essere un pochino più poetico, più astronomico. Un brano che parla d'estate, che ha riferimenti estivi e che esce in un'estate che è sicuramente diversa da quelle che conosciamo e che abbiamo vissuto finora. Tu come te la immagini questa estate? Guarda, probabilmente anche questo è quello che poi rende il pezzo con un'attitude che non è quella da super tormentone reggaeton, come dici tu, nel senso… Ora, non l'abbiamo scritta in periodo Covid. Cioè, non mi diricevo, l'abbiamo scritta a gennaio-febbraio, se non ricordo bene, comunque gennaio-febbraio, quando ancora la situazione era serena, non si sapeva niente. Guarda, io in realtà non ce l'ho proprio quella roba lì di fare quel tipo di brani lì, quindi per me questo è proprio uno dei momenti, uno degli avici della mia solarità, anche se poi in realtà finisce con tutto è così stupido senza idea. Sì, vabbè, c'è sempre un po' di nostalgia. Anche il titolo, già dal titolo non è che è un titolo. Sì, il titolo, esatto, cioè non ti dà la sensazione che sia un brano estivo, poi lo senti, vabbè, il sound estivo, però sì, vabbè, quello è un po' la mia persona, probabilmente. Poi abbiamo preso come frase, simbolo… Ma loro sono un po' più solari nelle strofe, come testo di me. Abbiamo preso quello perché poi è la parte del ritornello, secondo me, un po' più incisiva, però sì, fondamentalmente, secondo me, è anche frutto appunto del mio modo di essere artista, delle cose che scrivo. E come te ne immagini quest'estate? Beh, l'estate, boh, per quanto mi riguarda, secondo me già se ci fosse un po' di serenità, se ci fosse la possibilità di godere, tra virgolette, dell'estate, e quindi poter farsi un bagno in maniera serena, poter andare al mare, poi ovviamente, cioè dal punto di vista movita, locali, tutta quella roba lì sarà… non ci sarà… non ci sarà… ci sarà anche meno musica dal vivo, chiaramente, ci saranno un botto di restrizioni. Secondo me abbiamo anche… cioè, per quanto mi riguarda io la necessità che avverto di più è quella di dovermi rilassare da tutto il periodo. Io, comunque, sono qui bloccato in Lombardia da… Da marzo? Da gennaio, no, da sì, da prima, perché poi io sto qui, lavoro qui, però non ho avuto neanche… Poi c'è chi è sceso, io non me la sono sentita, però è una questione anche di… Cioè, ho fatto il test sierologico prima di scendere, tra un po' scenderò, per sicurezza, non mia, appunto, degli altri. Quindi, boh, secondo me la parola chiave è serenità, speriamo che ci sia un po' di serenità, perché è proprio la serenità. Poi il divertimento, tutta quella roba lì, ovviamente mi mancherà, ci mancherà, però, boh, nel senso, vista la catastrofe che è successa, secondo me un po' di serenità è la cosa che ci manca di più. Certo, ma è una graduale ripartenza, perché ricominciare come se non fosse successo niente sarebbe… Sì, sì. Poi guarda, per me che vado giù in Sicilia in estate, guarda, già, un po' di mare, il cibo giusto, due granite, sono felice ovviamente. Immagino che in questo momento ti sia mancata ancora di più rispetto al passato. Sì, perché poi io non sono uno che scende spesso, però sicuramente da gennaio a oggi, non ti dico un mese, però tra i quattro giorni giù li avrei passati, sicuramente li avrei passati. Certo, certo. E in un momento storico così particolare, quali sensazioni e quali stati d'animo ti piacerebbe riuscire a trasmettere a chi ascolta questo pezzo? Ma il pezzo è quello, cioè, tramonto in macchina con un filo di nostalgia, no? Per me è quello, io l'ho immaginato così, proprio rientro dal mare pomeriggio tardi e ti spari il pezzo e poi sei contento perché il pezzo comunque ti mette allegria, perché il sound è pompato, cioè, è figo. Però poi a un certo punto ti ricordi anche... Boh, cioè, a me è sempre un po'... Tutte le mie canzoni hanno comunque questo filo nostalgico dietro, no? E quindi c'è anche in questa qui, è un po' il filo conduttore delle cose che faccio. Poi la canzone non fa parte del progetto album, cioè, è proprio una collaborazione mia e loro. È una cosa venuta fuori da un incontro e quindi comunque è bello, perché poi il bello di fare musica è anche far succedere questi episodi, no? Però comunque secondo me è quello poi. Ok. A proposito di nostalgia e a proposito di live che quest'estate saranno centellinati, noi ci siamo visti lo scorso dicembre in occasione del tuo concerto qua a Milano, il tuo primo concerto in realtà. Quella sera ti ho visto molto emozionato, era il tuo primo live, quindi è stata una bella serata. Tu che ricordi hai e che pensieri ti frullavano in testa in quel momento? Guardo, cioè, guardo video di quel live, perché poi non c'è il primo concerto mio, nel senso l'estate, prima avevamo fatto tutti i festival, vabbè, c'erano state le varie... Cioè, poi per uno che ha cantato in tv, sai, magari può essere stoccolato, però live è un'altra cosa. Però non era il concerto di Mameli, capito? Cioè, era proprio... cambiava quello. Quel giorno lì per me è stato bello, perché intanto... Boh, è magico, cioè, per me è magico, probabilmente per le persone è un concerto... È un concerto punto e basta, no? Come se io vada a sentire qualcuno che mi piace, un concerto poi bello, brutto musicalmente, però comunque un concerto per chi lo fa è un'emozione, non ci credevo onestamente. Ma non è neanche, ripeto, non è neanche paragonabile al cantare in tv, al fare i festival, cioè, ad avere i palchi gigà, cioè, non è quello, è proprio la senza... Ti senti... cioè, tu dici, faccio musica per questo momento, precisamente per quel momento, quindi vorrei farne... cioè, mi auguro di farne altri dieci milioni, perché veramente è la cosa proprio figa che il mio lavoro ti dà, secondo me. Eh, ora che, infatti, tutto è un pochino fermo su questo fronte... Poi ce ne dobbiamo stare altri, è tutto fermo, quindi... Eh sì, esatto, sì. Ancora di più, quindi non vedo l'ora. Certo, 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 assolutamente. A tal proposito, ti chiedo un pensiero a riguardo, perché sono stati fatti un sacco di appelli nei riguardi di tutta la categoria, della filiera. Come pensi ne potrà uscire l'industria musicale, in particolare il settore dal vivo? Ma, allora, secondo me, poi ripeto, quelli più colpiti non siamo neanche noi artisti, perché noi artisti adesso, parlando proprio in maniera semplice, cioè, guadagniamo da anche altre fonti, no? Sì. Gadagniamo dai diritti d'autore, dalle vendite, eccetera, eccetera. Più che altro le persone che lavorano nel mondo del live, che non sono gli artisti musicisti, ma sono gli addetti, valgo, luci, fonici, eccetera, eccetera, tutta quella parte lì è devastata, cioè è completamente devastata, perlomeno è stata devastata nel corso di questi mesi. Oggi, secondo me, è lo Stato che dovrebbe aiutare quelle persone, lo Stato dovrebbe aiutarle. Mi rendo anche conto che non è semplice, però il problema è che loro non hanno proprio una video uscita, cioè è davvero uno di quei lavori, cioè non esiste lo smart working, non esiste la possibilità di trovare soluzioni alternative, quel lavoro lì esiste in quella proiezione lì o non esiste? Infatti i live non sono esistiti. Adesso io mi auguro che con le nuove normative, che con le capienze ridotte, che con la distanza, eccetera, eccetera, queste persone ricominciano a lavorare, perché mi rendo conto, e ne conosco persone che lavorano anche con me, mi rendo conto che sono in una situazione di grosse difficoltà. Certo, non solo i live, perché molti progetti discografici sono attualmente in stand-by, alcuni sono stati rimandati in attesa di momenti migliori. Sì, però nel senso il progetto discografico, allora, il progetto discografico sì, ovviamente poi c'è stato anche inaspettatamente, almeno così mi ha detto, ma l'ho notato anch'io in realtà, un rallentamento degli streaming, nonostante comunque ci siamo tutti a casa. Nelle prime settimane c'era stato un boom, poi dopo la seconda invece c'è stato un profondo calo. Sì, perché ovviamente tutte le persone, cioè è un po' come il calcio, ha sceso l'hype proprio, ha sceso l'hype della musica, perché ovviamente alle persone interessavano di altro. È una crescita graduale, dobbiamo essere tutti... Cioè noi, lato artistico, non dobbiamo smettere di fare la musica per questa cosa, perché in realtà la musica poi ti aiuta anche a risollevarti dal punto di vista emotivo, dal punto di vista appunto dell'umore, eccetera. Lato live, secondo me, si deve iniziare a ragionare a come portare avanti questa cosa, perché ripeto, ci sono migliaia di persone che stanno soffrendo, ed è tutto... Ora sta ripartendo, ma è stato fermo, ma fermo davvero per... Dopo quattro mesi è stato proprio fermo, tutto fermo, cioè... Assolutamente. Io mi riferivo più che ai simboli che per fortuna stanno uscendo, i brani comunque ci fanno compagnia, ci danno la parvenza... Beh, tutte le promozioni, tutta quella roba, che ti sta mancando. Promozioni, album, quello... Sì, sì. Tra l'altro, e volevo chiederti appunto, i tuoi progetti discografici si hanno subito una battuta d'arresto? Come stanno procedendo i lavori dell'album? Perché poi si è a lavoro con un disco. Beh, non ha subito un arresto, ma fortunatamente, perché poi io sono anche produttore del disco, quindi sono io che me la suono e me la canto. A casa hai tutto? Almeno per fare un'altra produzione. Non tutto, però è stato un giorno dove sono andato in studio ho preso tutte le cose che mi servivano e le ho portate a casa, no? Ok. Vabbè, adesso anziché in realtà sto riprendendo a lavorare con gli altri, cioè con gli altri musicisti e produttori, per tre mesi ho lavorato da solo. Poi io sono abituato, perché tanto guarda, il mio primo inno, il mio primo EP, l'ho fatto da sola, a casa, che non ce l'avevo manco lo studio, quindi l'ho fatto a casa proprio da sola. Eri in un lockdown tuo personale? Sì, sì, cioè non c'era lo studio, c'eravamo io il computer, delle casse e le cuffie, cioè punto. Quindi adesso c'era lo studio, peccato, perché no, vabbè, comunque in realtà poi siamo riusciti a fare tutto. Ognuno, adesso stiamo finendo. Siamo riusciti, anzi delle canzoni sono venute fuori da casa con la chitarra, all'inizio non avevo portato perché non sapevo cosa stava per succedere e quindi per un mese sono stato a casa solo con la chitarra. E quindi ho anche scritto delle cose solo con la chitarra, una cosa che non facevo da un po', no, è venuto fuori. Comunque ovviamente questa cosa secondo me si sentirà, cioè anche musicalmente questa cosa si sentirà, perché se fai un disco in un momento del genere comunque la musica si prende dentro le emozioni che stai vivendo, l'esperienza che stai vivendo, quindi questa cosa si sentirà, cioè assolutamente. Le tempistiche? Tempistiche autunno 2020. Ok, per concludere Mario, a netto di tutto quello che ci siamo detti, la tua musica, la musica in generale e l'arte in generale, che ruolo possono avere in questa ripartenza? Aiutare, aiutare le persone a non... Vabbè, secondo me in realtà guarda, cioè gran parte, io spero che gran parte del lavoro lo abbia già fatto, adesso siamo in una fase di ripartenza, poi ti dico, io sono un artista che con la musica può aiutare le persone, ma sono anche una persona che ha subito questa cosa, quindi di conseguenza anch'io ho sofferto per questa cosa, ho sofferto come gli altri. Mi auguro in generale che comunque dal campo della musica, dell'arte, ma onestamente anche dello sport, tutte le attività di intrattenimento, in generale il mondo possa ripartire, ma onestamente mi sembra che in questo momento siamo in una situazione non dal punto di vista economico, ma proprio dal punto di vista praticamente sociale di ripartenza. almeno questa cosa poi è anche un po' mi preoccupa, perché guardi delle foto e ti rendi conto che oltre a una ripartenza c'è anche un'imprudenza da parte delle persone, soprattutto qui in Lombardia, perché quando in Sicilia non metti la mascherina è grave, ma ci sono due contagi al giorno, due contagi ogni tre giorni, quindi è grave e il resto è un fatto grave. Qui a Milano ci sono ancora, in Lombardia ci sono 200 casi al giorno, questo è veramente un suicidio, mi sembra proprio che alcune persone non vogliano far passare questa cosa solamente per poi andare a bere... Ed è ancora obbligatoria, tra l'altro. Ed è ancora obbligatoria, sì sì, ed è ancora obbligatoria. Adesso mi pare a luglio le vino la mascherina. La regione vuole togliere le prime, non lasciamo stampo. Però quella roba lì è preoccupante, cioè poi va bene che il virus si indeboli, cioè comunque nel senso secondo me stiamo parlando, ancora oggi che parliamo di ripartenza comunque muoiono 30 persone al giorno, non è che... Sì. Perché dici stiamo... Però, boh, mi auguro comunque che tutta la parte degli artisti e dell'intrattenimento possa aiutare, possa aiutare. Ci sono state comunque varie operazioni che hanno aiutato sia economicamente, sia per quanto riguarda i tamponi, sia clinicamente, tutta la questione. Speriamo questa cosa continui, speriamo finisca il prima possibile. Ringrazio Mammelin per essere stato con noi, ricordo il titolo del tuo ultimo singolo Senza di Te realizzato con i Serra. Ti faccio un in bocca al lupo, ti auguro, buona estate e soprattutto anche se quest'estate ce ne sarà un pochino di meno in giro, buona musica. Grazie mille, anche a te. Ciao, buona prossima. Ciao, ciao, ciao.